Ciao ragazzi ed eccoci con la lista delle strumentazioni strumenti elettronici da laboratorio le cedo cerco di fare prezzo buono e abbiamo bellissimo oscilloscopio della Pantec 130 euro alimentatore 24 volte 20 ampere di potenza 200 euro strumento tester di isolamento alimentatore di elettronica pratica 30 euro variac di potenza sarà 30 kg 200 euro stazione saldante dissaldante 3 in 1 con pistola aspirante aria calda per smd e stagnatore 130 euro un altro alimentatore 24 volt 20 ampere 200 euro qui abbiamo due variac quello professionale 200 euro è anche molto potente guardate l'etichetta questo è europeo di ottima marca e poi c'è quello cinese variac cina che lo cedo a 50 euro inoltre ic tester un tester con tastiera due socket per circuiti integrati analogici e digitali questo mi sembra che controlla pure gli integrati stabilizzatori e anche delle memorie 180 euro e qui un bellissimo hp carico fittizio hp digitale 250 euro poi ovvio che se qualcuno compra un lotto di strumentazioni facciamo sempre un prezzo scontato ciao a tutti che spettacolo stanno facciamo sempre un prezzo scontato un prezzo scontato